quadrilocale in sacro cuore. Una bellissima casa, molto signorile, come potete vedere, un fantastico salone che si affaccia sul nostro parco. Di qui si gode una bellissima vista e si è veramente a due passi dal centro. Questo appartamento, oltre a questo grande salone, ovviamente da questa parte ha una bellissima cucina con un terrazzo all'interno. Proseguiamo la nostra visita vedendo gli altri spazi di questo bellissimo appartamento. Da questa parte il bagno, un bellissimo bagno, e poi due camere da letto. La prima matrimoniale che affaccia sul cortile interno. Un secondo bagno e una cameretta che dà di nuovo sul parco. E per ultimo, la fantastica chicca di questo locale, come potete vedere, un bellissimo spazio studio o che potrete adattare alle vostre esigenze che si apre sul salone principale. Ciao!